I comuni non possono più subire solamente la gestione del fenomeno dei migranti, ma devono diventare parte attiva di questo processo. La linea è emersa dall'ultimo incontro del lanci alla quale ha partecipato anche il comune di Arezzo, che ha appoggiato l'annunciata volontà di essere maggiormente ascoltato, anche perché i flussi continuano ad arrivare e dunque possono prevedersi mesi di gestione complessa di un fenomeno che presenta aspetti delicati e non sottovalutabili. Ne è emersa una linea che non so poi quanto verrà condivisa da tutti o meno, che è inutile che i sindaci continuino a lamentarsi e basta. I sindaci sono parte attiva. È necessario che si ristabiliscano dei corretti rapporti di coesistenza e di collaborazione con i prefetti, laddove non ci sono, ovviamente non mi riferisco ad Arezzo, dove il rapporto con il prefetto è ottimo, ma per far sì che questo tema venga posto per i comuni non come qualcosa da subire, ma come qualcosa del quale poter determinare l'oggettivo funzionamento ed è quello sul quale i sindaci hanno molto battuto.